Una crisi non si aspetta che passi, ma una crisi si affronta, quindi questo è fondamentale. Soprattutto noi che siamo il cuore pulsante della distribuzione di prodotti alimentari in Italia, quindi 42 soci, spazi su un territorio, dalla Sicilia al Friuli, che fanno la distribuzione di prodotti alimentari nel mondo ora e capo, nel ristorante, nella pizzeria, nella trattoria, nella mensa, nell'ospedale, quindi facciamo un lavoro importante, siamo anche portatori, grandi portatori, di quella che è l'italianità, quella che potrebbe essere la territorialità. E se parliamo di olio, naturalmente l'olio ha queste caratteristiche. In Italia è famosa per avere tantissime tipologie di olio e quindi, naturalmente, noi siamo quelli che portano avanti questo messaggio. La cosa principale è passato l'anno 2020, dimentichiamo l'anno 2020, tutto quello che ci può fare forza oggi è l'entusiasmo, l'entusiasmo di ripartire, perché non è la fine del mondo, è forse l'evento più drammatico degli ultimi 50 anni per noi, della nostra generazione. Però è durato sei mesi, quindi non è una guerra, è una pandemia che si risolverà nel breve periodo, mi auguro. Naturalmente dobbiamo farlo con la forza dei distributori, con la forza di contrestingue noi italiani, quindi siamo imprenditori e il nostro compito è quello proprio di portare questo messaggio forte all'interno delle cucine, parlare con i titolari dei ristoranti, parlare con gli chef e lo facciamo tramite proprio la rivista che è del gruppo, che è Sale Cucina, diretta da Luigi Franchi, che è il direttore che gestisce tutta la filiera della qualità, del messaggio che deve arrivare all'interno della ristorazione. Quindi questo è il nostro compito principale.